Non tutti hanno la fortuna di nascere con la terza gamba, quindi ho deciso di rimediare comprando il bastone a circa 8 euro dell'Eurospin. Ergonomico, estensibile e leggero potrebbe fare invidia a molti. Con un bastone in mano si sente subito una sensazione di potere, saggezza, sacralità, giustizia. D'altronde in passato papi e renne hanno fatto ampio uso, anche se non comprandolo all'Eurospin, ma facendoselo forgiare dal migliore artigiano, magari in oro e pietre preziose. Si potrebbe tentare comunque con i sentinellesi, l'ultima tribù rimasta al mondo, a non avere contatti con la cosiddetta società civile. Magari si accontentano di un bel bastone in alluminio per erigermi all'oro sovrano. Nel frattempo mi accontento di usarlo per farmi cedere il posto all'autobus, per saltare la fila alle poste, per farmi portare le buste della spesa e perché no, per farmi accompagnare alla più vicina sala slot. Per verificare la bontà del prodotto ho comunque eseguito dei piccoli test, utili anche nella vita quotidiana, come ad esempio impilare due cassette d'acqua, schiacciare delle arachidi, scacciare il gatto, chiudere un'anta e schiacciare una bottiglia di plastica, per un perfetto riciclaggio. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse invitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. 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 Ciao.